Le indagini dei carabinieri sono in corso e sulla vicenda, della quale tuttavia si vocifera già da giorni, vige il più stretto riservo. I soccorsi sono intervenuti ad Albosaggio, a località Porto, poco dopo le 5 di domenica mattina. Periti in modo serio, ma non in pericolo di vita, due ragazzi di soli 19 e 24 anni. Non si è trattato però di uno dei tanti litigi che scoppiano sui piazzali delle discoteche a fine serata, spesso tra persone alterate da alcol e sostanze e per futilissimi motivi. Stavolta sarebbe un episodio che a Sondrio mai si era verificato in precedenza. Un accerchiamento nel perfetto stile delle baby gang a scopo di rapina da parte di una decina di individui sembrerebbe tutti stranieri. A un certo punto, di fronte alla reazione di uno dei due giovani posti sotto assedio che ha tentato di difendersi e al dinego dell'altro di recarsi al banco, ma adducendo la scusa di non ricordarsi il pin da digitare per prelevare, è spuntato anche un coltello. E lì non soltanto il ragazzo non ha potuto che recarsi scortato allo sportello, ma è stato anche costretto a consegnare 500 euro a chi lo stava minacciando. Come detto, sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto e rintracciare gli autori. Pare si tratti di una banda proveniente dalla Bassa Valle che già nel pomeriggio di sabato aveva infastidito dei ragazzi in centro Sondrio per poi proseguire in zona stazione e finire la serata d'Albosaggia dove appunto prima dell'alba di domenica si è verificato l'inquietante episodio.